Care amiche ed amici, qui il vostro Sant'Encian vi parla e con onore ed al vivo ho intenzione di comunicare a tutte e tutti voi che mi voglio candidare per le elezioni a sindaco di Roma. Infatti mi voglio candidare per il Movimento 5 Stelle, se no vorrà dire che mi presenterò come indipendente, quindi vi voglio fin qui, da qui, da adesso, sin d'ora dire che io ho una visione eterodossa nei confronti della visione che hanno i CEO, i supporter del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo e Casaleggio e quindi che io ho una mia prospettiva del tutto personale, credo che la politica debba essere anche un'arte, non solo una tecnica. Quindi mi propongo per il Movimento, ancora non mi hanno dato delle risposte Casaleggio e Beppe Grillo. Comunque, se voi siete insoddisfatti dalla linea ortodossa del Movimento 5 Stelle, voi che potete votare in rete, proponete il mio nome, Sant'Encian, che sarà un'alternativa eterodossa a, diciamo, la direzione centralizzata del Movimento. Adesso passiamo a descrivere la mia agenda, quale sarà. Innanzitutto ridare prestigio e lustro ai nostri monumenti, alla nostra eredità storica, non lasciando andare in malora la città, che fin qui tutte le amministrazioni si sono malcomunate in questo. Alemanno, Rutelli, non so se c'è stato Fini e poi adesso quest'altro, il neogrochirurgo, no? Che, beh, insomma, neanche mi ricordo il nome, però veramente tutti hanno lasciato decadere la nostra amata città. Quindi io prometto di essere diverso da tutti gli altri sindaci che ci sono stati nel passato. Prometto, quindi, soprattutto di rivalorizzare il suo patrimonio storico e culturale e poi di ridare importanza all'educazione dei giovani, alle scuole, alle università, di ripristinare gli asili nido comunali, di ridare casa alla gente povera, a basso affitto e bisogna fare delle politiche per aiutare il popolo. E poi avrei mille altri progetti. Comunque la cosa più importante è che mi differenzierò per difendere la città dai Franceschini, dai Rutelli, dai tutti quelli che voi sapete che noi a Roma abbiamo dovuto assorbire per decadi. E invece tratterò di essere un sindaco aperto alla gente, ai problemi reali della gente. E ho già lanciato un messaggio simile in YouTube, perché bisogna fare qualcosa per salvare la nostra urbe. Quindi mi raccomando, se volete votare contro l'ortodossia del Movimento 5 Stelle, proponete il mio nome, San Ten Chan. Votatemi in internet, scrivetemi nei forum e vedrete che la direzione del partito sarà costretta a evocarmi. E allora io scendrò nella politica come sindaco di Roma. Grazie a tutti e tutti per avermi seguito e per continuare a seguirmi così tanto. Questa diretta la faccio tardi, perché ho trovato solo adesso il tempo per fare questa diretta, perché ho passato tutto il giorno calcolando quello che si può fare nella città per migliorarla. Allora, alla prossima e grazie di avermi seguito.